Un festival al femminile per il centenario della morte di Giacomo Puccini. Turandò, Jeanne d'Arc e Tosca saranno infatti le protagoniste dell'86esimo festival del Maggio musicale fiorentino in programma dal 13 aprile al 13 giugno. Il festival, già costruito dall'ex commissario Cutaia, viene lanciato dal nuovo sovrintendente Carlo Fuortes che lo ha presentato insieme ai principali direttori d'orchestra del Maggio, Zubin Meta e Daniele Gatti. Nominato solo poche settimane fa, si era già messo al lavoro per il rilancio del teatro. Abbiamo iniziato a lavorare subito per rafforzare e ampliare il programma del 2024. Quindi aggiungeremo tre opere, tre titoli a quelli che erano previsti perché è molto importante che il servizio che il Maggio offre alla città e al paese si allarghi, si ampli. Quindi prossimamente faremo una conferenza su questo, quindi con l'ampliamento. E dopo stiamo lavorando su base pluriannale. La programmazione di un'istituzione importante come il Maggio richiede una programmazione pluriannale. Questo è indispensabile per intercettare di nuovo i grandi flussi nazionali degli spettatori, dei turisti. E' assolutamente indispensabile per ridare la reputazione e l'immagine molto importante al Maggio che ha sempre avuto. Non solo opere, il Maggio sarà anche danza. Roberto Bolle sarà qui a fine mese, poi chissà. Roberto Bolle è anche un amico, quindi già faremo, stiamo immaginando qualcosa per gli anni futuri. Tornando al Festival, il programma prevede anche cinque concerti sinfonici, a partire da quello che inaugurerà il Festival sabato sera alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Dopo tre commissariamenti e una durata media dei sovrintendenti tra le più basse, tra le fondazioni liriche, è stato proprio il Ministero a mettere la maggior parte dei fondi per salvare i conti del Maggio. Il nuovo sovrintendente, che quando si è presentato ha detto sono qui per restare, ha anche altre richieste per il Ministro. Io gli ho rappresentato la specificità del Maggio musicale fiorentino, cioè quella di avere un festival molto importante, un festival storico, un festival che oramai ha cento anni e contemporaneamente fare un'attività teatrale regolare come tutti gli altri teatri lirici. Per questa duplicità non c'è un finanziamento straordinario, quindi io credo che invece il festival meriti un'attenzione particolare. Il Ministro su questo veramente ha detto che ci sarà grande attenzione.